Allora, buonasera donzelle, barbuti, mestieri, ci presentiamo, non siamo tutti qua perché la maggior parte è giù in piazza, però noi siamo la compagnia dell'Ordine del Vietchio, matta da quattro persone, e i TNA Animation di Genova, loro principalmente sono stati. Siamo venuti fin qua su per aglietarvi la serata con dei due. Poi più tardi, se ci vorrete seguire, giù per la strada diarocata da cui ci ammazzeremo tutti quanti perché io sono già caduto, giù di sotto ci sarà uno spettacolo basato sui duelli per Rioni, quindi il Rione che dominerà la serata. Io lascio la parola adesso alle spade dei miei compagni, vi auguro buon divertimento. Grazie. E non ha appena più avuto, però è epigoso. Sei morto! Eccola qua, eccola tu! Stamola in piedi. Uno, due, tre! Ti posso sconfiggere anche a mani nude! Stamola in piedi! Stamola in piedi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.